in forma. Allora intanto che vi collegate, verifico anch'io che tutto funzioni per ricominciare di nuovo con i nostri appuntamenti quotidiani qua sulla pagina. Allora, vediamo chi c'è oggi. Oggi ricordo che abbiamo di nuovo un grande ospite, quindi mi raccomando collegatevi numerosi perché sarà di nuovo una puntata molto interessante. Allora, dovremmo esserci, vedo live, perfetto, voi comunque per sicurezza datemi qualche segno, qualche like, qualche commento così so di esserci. Allora, vedo qualche occhietto, quindi in teoria dovremmo esserci, ma come dico comunque fatemi un commento così che mi sentite e mi vedete bene e poi iniziamo e io invito poi a breve la nostra super ospite. Allora, non vedo ancora i commenti, quindi attendo qualche un istante. Oh, ecco i primi commenti. Ciao Maria Chiara, Carla, buon pomeriggio, benvenuti ritrovati. Ieri mi sono un po' riposata, così ho steso giù tutto il programma per questa settimana e di tutte le belle cose che vi aspettano insieme, che ci aspettano insieme anzi. Ok, bene, si vede e sente tutto, perfetto. Come vi ho anticipato abbiamo di nuovo qui con noi la simpaticissima dottoressa Francesca Romana Nardelli oggi per parlare di un altro argomento molto interessante che è la saliva. Ma direi che posso subito invitare Francesca, così introduciamo insieme l'argomento. Quindi Francesca, un attimo che ci colleghiamo. Eccoci. Ciao Francesca, bentornata di nuovo qua sulla pagina Visa Informa, è veramente un piacere averti di nuovo qui con me. Grazie, grazie. Sono felicissima anch'io di essere nuovamente con te e con le tue amiche, ho condiviso anche sulle mie pagine, così stasera sarà tutto uno scintillio di comunicazioni. Perfetto. Bene, bene, vedo già che ci sono molte amiche. Sì, sì, stanno già collegando. Io ti vedo leggermente fusca, ma speriamo che comunque gli altri vedano bene, perché ogni tanto appunto la tecnologia ci disturba un pochino, però insomma si sente benissimo. Allora, come anticipato via post, oggi volevo parlare con te di un argomento che è in qualche modo collegato allo yoga facciale e cioè la saliva. Perché dico che è collegato con lo yoga facciale? Perché noi quando facciamo pratica, quando alleniamo i muscoli facciali, andiamo a stimolare sì i muscoli facciali naturalmente, andiamo ad attivare, a stimolare gli organi riflessi sul viso, ma andiamo anche a stimolare, ad attivare determinate ghiandole, tra le quali anche quelle salivari. Ecco perché volevo un po' parlare con un esperto di questo argomento della saliva, perché tanti sì, sappiamo che facciamo, abbiamo, produciamo saliva, ma esattamente non so quanti di noi sanno cos'è più in profondità. Già nella scorsa puntata tanti hanno scoperto di quanti denti hanno in bocca, che prima di allora non lo sapevano, quindi magari ci sembrano degli argomenti molto basici, basilari, e invece non lo sono. Quindi secondo me è anche molto importante parlare di questo liquido saliva e scoprire un po' di più. Quindi ti lascio la parola. Grazie, allora di nuovo a cosa serve, che tipi di saliva bisogna avere in bocca, insomma ti lascio carta bianca. Grazie, grazie. Allora di nuovo buonasera a tutti quelli che si stanno collegando. Beh, parliamo di saliva. La saliva è un elisir, quindi bisogna veramente trattarlo con grande accuratezza, perché è un liquido che ci protegge, che ha tantissime funzioni, che vorrei andare un po' a scoprire insieme a Petra e insieme a tutte le amiche. La saliva va veramente rispettata, va stimolata, va curata ed anche per questo abbiamo trovato proprio questo trade union tra lo yoga facciale, che io sto facendo e sono diventata quasi bravissima, e effettivamente la saliva. Allora vi spiego un po' perché è così importante la saliva nella nostra bocca e come vi dicevo, noi spesso non abbiamo tanto, non ci rendiamo conto di quanto sia così fondamentale. Considerate che innanzitutto la saliva è costituita per il 99% da acqua. Questo perché ve lo dico? Perché voi ascoltate tutte queste cose che vi vado a dire e poi alla fine vi renderete conto che tutte queste informazioni ci servono. Quindi il 99% di acqua e quindi già vi ho dato un piccolo indizio che è molto importante ovviamente bere, bere tanto. Gli esperti ci dicono almeno due litri al giorno. Personalmente non ci sono mai riuscita, però confido di riuscirci un giorno, però mi sto impegnando. Quindi tanto acqua, tanta acqua. Dopodiché abbiamo un 1% che è rappresentato da sostanze organiche e inorganiche. Questo non vi dirà molto, ma adesso vi spiego che cosa significa. Tra le sostanze inorganiche potete considerare per esempio quelli che sono dei sali minerali, che sono fondamentali anche per il mantenimento del benessere delle mucose della bocca. Come poi c'è una quota di bicarbonato di sodio che serve per abbassare l'acidità della bocca. Quindi se per esempio io metto in bocca il succo di limone, la mia saliva diventerà tutta acida e poi vi spiegherò che effetto devastante può avere sulla superficie dei denti. Ma se io ho una produzione di bicarbonato di sodio, ecco che per esempio la saliva tende invece a tornare a valori che non danneggiano la superficie dei denti. E quindi già abbiamo cominciato a capire qualche altro particolare. Per quanto riguarda invece la parte organica, che cosa c'è? Ci sono un sacco di elementi che sono fondamentali per il mantenimento della salute della nostra bocca. Quali per esempio il lisozima che è un enzima, cioè un disinfettante naturale della nostra bocca, io vi dico un po' di nomi perché magari qualcuno li avrà sentiti. Il lisozima è un disinfettante naturale e quindi capite che una buona saliva con una buona produzione e ben stimolata è fondamentale per il mantenimento proprio della salute, non solo dei tessuti duri, del controllo della placca batterica e ovviamente della malattia parodontale. Dall'altra parte la saliva contiene anche delle sostanze che sono sempre degli enzimi. Quindi gli enzimi che cosa sono? Sono delle proteine che servono per consentire delle reazioni chimiche. Per esempio, mangio degli amidi, io ho bisogno di avere degli enzimi che trasformano e spezzettano queste grandi proteine di zuccheri. Aspetta, secondo me si vede male la dottoressa? Adesso è migliorato un pochino, prima ti si sentiva benissimo però ti si vedeva un po' a scatti, adesso sei molto tutto chiaro l'immagine, sì. Ok, perfetto, va bene, sto ferma ferma. E quindi vi dicevo, però mi sentite vero? Sì, sì, mi sentite benissimo. Perfetto. E quindi vi dicevo appunto, la saliva svolge tante funzioni, quindi intanto abbiamo capito che è un buon disinfettante, abbiamo capito che occorre bere molto per mantenerla in una quantità considerevole, che poi voi considerate che ogni giorno noi produciamo o dovremo produrre circa 1500 ml di saliva, quindi tanto. Per cui considerate che dobbiamo comunque avere un approvvigionamento di acqua, oppure se non è direttamente bevendola, sicuramente attraverso frutto e verdura. Quindi comunque dobbiamo mantenere questo quantitativo di acqua. Quindi vi dicevo, questo sicuramente, intanto abbiamo capito l'importanza della saliva. Quindi a questo punto, io quasi quasi, Petra, se puoi mandare la prima immagine, così almeno facciamo vedere da dove, chi è che produce questa saliva. Allora, vi ho messo questo schema che è abbastanza chiaro e dove vedete quelle che sono le ghiandole salivari maggiori. Perché ho messo questo schema? Perché intanto ci fa capire quella che è la percentuale prodotta dalle varie ghiandole. Ghiandole che, per esempio, attraverso lo yoga facciale vengono fortemente stimolate. Quindi quando facciamo tutti quei movimenti di compressione con le mani, di stiramento, di tonificazione della muscolatura, ecco che queste ghiandole vengono molto molto stimolate. Quindi questo è fondamentale, vedremo soprattutto dopo in alcune situazioni. Vediamo che la ghiandola parotide produce il 30% della componente fluida della saliva. La ghiandola parotide è questa ghiandolona che si trova davanti all'orecchio, è una grossa ghiandola che poi attraverso un piccolo canalino, che vedete lì davanti alla freccia, emette la saliva all'interno della bocca tra i molari superiori. C'è una piccola bollicina. Se voi vi guardate, se tirate fuori lo specchietto che devo fatto prendere l'altra volta, e vi guardate all'interno della bocca, nella guancia, vedrete come una piccola bollicina. Non è niente di preoccupante, quella bollicina è solamente il dottoscrittore della ghiandola parotide, che è la ghiandola principale e fondamentale della nostra bocca. Poi vedete invece che abbiamo anche per il 60% la produzione di una saliva mista, che è un pochino più viscosa e che viene prodotta dalle ghiandole sottolinguali e sottomandibolari, scusate, sottomandibolari, che si trovano al davanti della, vedete, della branca mandibolare. Quindi questa parte qui, qui sotto. E anche questa viene molto stimolata, perché anche l'altro giorno, quando ci hai fatto fare quegli esercizi, ecco, pensavo, qui c'è una grossa stimolazione quando fa l'esercizio del conno del cigno. Ma a me, anche quando facciamo allenamento, quelli che già praticano da un po' ginastica facciale, e anche loro mi dicono, ah, mi si sta riempendo la bocca di saliva, perché appunto se ne produce un bel po'. È certo. E questa è una cosa assolutamente favolosa, sia proprio per la, appunto, la protezione di denti e gengive. È fantastico. E poi abbiamo un 5% invece che viene prodotto dalle ghiandole sottolinguali, quindi ci sono queste piccole ghiandoline poste sotto la lingua che producono questa piccola percentuale di saliva viscosa, che è importantissima. Quindi, intanto abbiamo capito che questo fluido è veramente un elisir di lunga vita che va coccolato, gli va dato da mangiare, quindi bisogna dargli, appunto, acqua, sostentamento, bisogna stimolarla. E andiamo a vedere adesso quelle che possono essere le funzioni, ma prima di questo vi vorrei far vedere, attraverso un altro schemettino, quello delle labbra, Petra, come dovremmo poter controllare la nostra salivazione. Quindi se voi vi mettete nuovamente davanti allo specchietto e provate a emettere un po' di saliva, teoricamente dovrebbe succedere questo. Quindi all'inizio voi vedete le vostre labbra che sono asciutte, poi piano piano dovreste vedere queste come bollicine di saliva e quando la saliva è aumentata di un certo quantitativo, tanto da fuori uscire dalle labbra, dovreste vedere proprio questo filo che pende. Questa è una caratteristica importante, significa che tutte le tre grosse ghiandolone, che poi ovviamente sono sei perché sono da una parte e dall'altra, tutte queste ghiandole funzionano correttamente, perché abbiamo visto che abbiamo sia la componente mista, la componente fluida e la componente viscosa. Perché la saliva deve avere queste caratteristiche, deve fare un po' questo filo? Perché è importantissima per svolgere tante funzioni. Petra, se tu mi vuoi interrompere poi, altrimenti io vado avanti? No, continua, continua. Ti sei di nuovo un pochino, l'immagine non è limpida, però si sente comunque, si continua a sentire benissimo. Mi dispiace solo che non ti si vede benissimo, che hai un viso raggiante, però speriamo che poi l'immagine si sistemi un pochino. Ho capito, va bene. È importante che sentiate. Allora dicevo, per quelle che sono invece le funzioni, quindi intanto abbiamo capito quanto è importante averla e potete intanto provare proprio a verificare quanto effettivamente la vostra saliva possa essere così viscosa. Perché vi dico questo? Perché andiamo a vedere un attimo quali possono essere le funzioni della saliva. Beh, intanto è digestiva, nel senso che se noi non avessimo la saliva non potremmo né masticare né tantomeno deglutire, perché la saliva con la sua componente viscosa avvolge il cibo, ci consente di renderlo più viscido, se vogliamo usare questo termine, e consentirci così di farlo scendere attraverso la faringe, attraverso l'esofago. Per esempio ci sono alcune situazioni nelle quali, ad esempio assumendo alcuni farmaci che sono tantissimi, non avete idea di quanti farmaci provocano una riduzione della salivazione. Anche farmaci molto frequenti, per esempio gli antidepressivi, gli antipertensivi, tantissimi farmaci che possono ad esempio essere utilizzati anche nei confronti delle allergie, quindi antipiretici, tanti, veramente tanti, che provocano una riduzione della salivazione. Quindi il paziente, la persona si può trovare a mangiare e avere difficoltà proprio a deglutire e mandare giù. Oppure, ancora peggio, riesce a deglutire, ma per esempio si taglia, si graffia la bocca, la faringe, l'esofago. Quindi è effettivamente una cosa molto importante. Un'altra funzione, abbiamo detto, è quella protettiva, perché abbiamo visto all'inizio che all'interno della saliva sono contenute tutte queste sostanze che svolgono varie funzioni, sia che ci consentono di iniziare una prima digestione all'interno del cavo orale e quindi abbiamo detto attraverso questi enzimi noi possiamo essere in grado di prendere queste grosse molecolone, per esempio penso agli amidi, e di come dividerle in piccole particelle, consentendoci quindi di poter digerire meglio. E quindi qui già vi ho dato un altro indizio, che poi vedremo dopo facendo un piccolo esercizio, che è quello che noi dobbiamo imparare a masticare correttamente, a masticare tanto. Francesca, qua già scrivono, stanno facendo le prove, verificando come è la loro saliva, qualcuno dice che ha la salivazione ottima, che è veramente come nella foto 4, ovvero no, c'è qualcuno che scrive, io quando sento un odore del cibo ho la saliva della foto 4. Bene, vuol dire che funziona tutto benissimo, fantastico. Poi c'è Valeria che dice le mie ghiandole funzionano benissimo, ho appena provato, quindi hai fatto la prova del... Bene. No, ma è una cosa importante quella, perché tra l'altro serve proprio per verificare se c'è un buon funzionamento o meno, perché altrimenti bisogna utilizzare delle sostanze che servono o per stimolare appunto la produzione di saliva, oppure anche per sostituirla, ci sono anche dei sostituti salivari, in alcune situazioni purtroppo devono essere utilizzati. Perfetto, come mai durante un allenamento si produce così tanta saliva, è proprio perché vengono, proprio perché c'è un'attivazione, ora non so se si riferisce alla... Infatti, io ho visto, non so se si riferisce al corpo o... Allo yoga facciale in generale. Allo yoga facciale vi ho detto che praticando l'esercizio andiamo proprio a stimolare le ghiandole che abbiamo visto prima, ed ecco che ci fanno produrre più saliva. In un allenamento normale, perché comunque c'è tutta un'attivazione e un'attività muscolare che è tutta esacerbata, è tutta accentuata, quindi è normale che ci sia. Quindi, andando avanti e vedendo le funzioni, quindi abbiamo detto funzione protettiva, abbiamo detto che ci serve per deglutire, per parlare, ha una funzione antibatterica, e questa l'abbiamo già visto prima, e quindi abbiamo capito che è un elisir di lunga vita. Quindi, vi dicevo prima che ci sono molti farmaci che possono appunto ridurre la salivazione, e quindi questo è importante, se voi assumete dei farmaci, è importante andare a vedere, controllare la vostra salivazione, soprattutto se vi sembra che si sia leggermente appunto ridotta nella produzione, o che sia meno viscosa, che ci sia qualcosa che è cambiato. Una scelta, mi senti interrompo, una scelta proprio che in menopausa ha diminuito la saliva. Esatto, infatti adesso ci arriviamo. È uno proprio delle problematiche di cui poi andremo a parlare. Quindi vi dicevo, intanto se assumete dei farmaci e se vedete che c'è un'alterazione nella vostra salivazione, parlatene comunque con il vostro medico di base e con il vostro dentista. Questo è molto importante, cercate sempre un confronto, perché appunto, come vi dicevo, al di sotto di un certo quantitativo, che deve valutare il dentista, anche guardando se le vostre mucose, come sono bagnate, appunto la tipologia di saliva, eccetera, e quindi vi può aiutare nel capire se potete, per esempio, andare incontro a una situazione di xerostomia. Che vuol dire questa parola? La xerostomia è una riduzione della salivazione parziale o totale. E questo che cosa causa? Come vi dicevo prima, può causare per esempio l'alitosi. Vediamo se abbiamo l'immagine, quella con lo schema tondo. Questo qua. Perfetto, benissimo. Allora, qui vediamo quelle che sono le cause dell'alitosi, perché nel momento in cui la saliva viene a ridursi, anche di poco, che cosa succede? Intanto avremo sicuramente molta più placca, perché avremo meno quello che è l'effetto di detersione che viene dato dalla saliva. Io soprattutto, quando parlo con i pazienti grandi o piccoli che siano, descrivo la saliva come se fosse una specie di onda che va a bagnare la superficie dei denti, le mucose, da una parte proteggendole, ma da una parte anche portando via parte dei batteri e dei residui di cibo. Quindi, se la saliva ovviamente ne abbiamo di meno, ecco che possiamo avere anche dei problemi di alitosi. L'alitosi è molto molto frequente e tante volte i pazienti cercano magari di capire se può essere un problema che dipende, per esempio, a livello gastrico, se ha una causa a livello gastrico, ma io vi dico già che, come vedete anche da questo schema, nell'86% dei casi il problema risiede all'interno del cavo orale, ossia la nostra bocca non è ben pulita, oppure non abbiamo spazzolato nel modo corretto, abbiamo degli accumuli di batteri e considerate che questi batteri producono dei residui sulfurei. Quindi capite che i residui di cibo che rimangono tra un dente e l'altro, ovviamente nel tempo, io faccio un po' dei paragoni sempre un po' casalinghi e perdonatemi a volte la banalità, però è un po' come se noi avessimo un frigorifero che non funziona, quindi ha una temperatura piuttosto calda e il cibo che rimane dentro. Ecco, è un po', anche se brutta l'immagine, però è proprio quello che succede nella nostra bocca. Quindi il cibo ovviamente si degrada, va male, i batteri possono produrre queste tossine e quindi ecco che una delle cause di alitosi risiede proprio all'interno della bocca, nella quasi totalità delle volte. Poi a volte ci possono essere invece delle altre cause che possono essere dovute per esempio al reflusso, ci sono dei pazienti che hanno un forte reflusso gastroesofageo ed ecco che in questo caso vengono su per esempio gli acidi gastrici e quindi quella è un'altra problematica che va poi risolta con il medico di base. Quindi questo per quanto riguarda il discorso dell'alitosi, quindi considerate che ogni volta in cui vi rendete conto che la saliva tende a ridursi nella quantità o nella qualità, cercate di attivarvi in qualche modo, soprattutto appunto coinvolgendo il vostro dentista di fiducia. E sicuramente cercando di applicare soprattutto quella metodica di spazzolamento che abbiamo visto nella puntata precedente dove ci eravamo tutti armati di specchio, spazzolino e abbiamo cercato di capire meglio come fare per riuscire a pulire nelle zone meno accessibili o meno conosciute e quindi per questo dimmi scusami. Siccome c'è qualcuno nuovo potete andare a rivedervi la puntata, potete cercarla sulla pagina e troverete la registrazione quindi vi consiglio di guardarla chi non l'ha vista perché è veramente molto interessante anche quella. Certo, quindi per rispondere ad Anna sicuramente nella menopausa è uno dei momenti nei quali abbiamo una grossa alterazione ormonale, vengono meno alcuni ormoni e tra tutte le problematiche che si possono creare una molto molto frequente è proprio rappresentata dalla serostomia. Tra l'altro in menopausa si può avere anche quella che appunto si chiama sindrome di Sjögren che è molto molto frequente che di solito appunto insorge e si manifesta dai 50 anni in poi. E' una diciamo una malattia autoimmune dove vengono vanno incontro a distruzione più o meno marcata a seconda della ovviamente del soggetto però possono andare incontro a distruzione le ghiandole salivari, lacrimali, vaginali quindi ecco che tutto diventa molto più secco, dà molto più fastidio e quindi è un problema che mediamente è proprio collegato alla menopausa. Che cosa fare? Che cosa fare? Sicuramente bere molto perché abbiamo visto all'inizio che il 99% della saliva è costituito da acqua quindi dobbiamo avere un apporto di acqua attraverso gli alimenti, frutto e verdura attraverso appunto il bere maggiormente. Dobbiamo tenere molto ben pulita la nostra bocca perché come vi dicevo e come abbiamo capito se noi abbiamo meno saliva abbiamo anche meno sostanze antibatteriche che proteggono la nostra bocca quindi che cosa succede? La prima cosa che avviene è malattia parodontale e carie che tendono ad aumentare ma se noi lo sappiamo cerchiamo di appunto attivarci proprio per evitare questo. Quando la xerostomia è molto molto forte possiamo anche utilizzare dei sostituti salivari che sono o sotto forma di gel che vengono distribuiti anche con un dito con un cotton fioc nelle mucose proprio per sono dei gel che contengono appunto per esempio l'isozima quindi quell'enzima di cui abbiamo parlato all'inizio e che servono proprio come diciamo disinfettante delle mucose e dei denti. Un'altra cosa importante è sempre quella di magari lo facciamo vedere dopo di spazzolare il dorso della lingua ma lo facciamo vedere dopo alla fine perché appunto anche quello serve per abbassare la carica batterica. Allora vediamo un attimo se ci sono delle domande. Allora produce tanta saliva quando bacia una persona oppure durante un rapporto sessuale è perché comunque c'è l'attivazione appunto di tanti ormoni che ovviamente provocano proprio una una maggiore anche produzione di salivazione e una maggiore umidificazione che serve è utile. Monica per ricordare le caratteristiche deve avere lo spazzolino ti suggerisco proprio di rivederti la puntata perché adesso è inutile ripetere di nuovo perché oggi è l'argomento saliva. Grazie. Allora poi mia sorella. Nella puntata abbiamo sviscerato l'argomento. Eh sì infatti adesso in un secondo è un po' difficile. Allora invece per quanto riguarda Malinda lei diceva che appunto spesso ha delle afte dolorose. Allora le afte ragazze eh ad oggi la leziologia è multifattoriale. Che vuol dire questa terminologia che un po' così eh offusca? Eh non si sa. Fondamentalmente non si sa quale possa essere la causa. Diciamo che le cause che ho trovato io con maggior frequenza sono uno ho la bocca troppo infiammata per cui i tessuti essendo tutti molto infiammati hanno le difese immunitarie che sono molto più basse perché devono cercare di eh tappare un po' eh tutti i buchi e quindi cercare di aiutare i tessuti a resistere all'attacco batterico. Quindi sicuramente le difese immunitarie sono più basse sicuramente quando ci sono anche delle eh patologie sistemiche penso per esempio al diabete penso anche alla sindrome di Schiogren di cui abbiamo parlato penso a dei farmaci che abbassano le difese immunitarie e sono tantissimi guardiamo solo il cortisone ad esempio abbassa molto le difese immunitarie quindi sicuramente ci aiuta per alcune patologie però eh ovviamente crea degli scompensi da un'altra parte eh oppure uno spazzolamento troppo energico eh spazzolando con troppa energia ci possiamo creare delle ferite e se la nostra saliva non è buona ed non ha una composizione ottimale ecco che chiaramente ci può essere un'infezione sopra a queste piccole lesioni. Ultima cosa eh molto frequente è per esempio ci sono dei pazienti che sono particolarmente sensibili e quindi tendono a sviluppare delle afte con frequenza. Questi pazienti hanno bisogno di controllare se nel loro dentifricio è contenuto il sodio laurilsolfato. Che cos'è? Il sodio laurilsolfato è un tensiattivo che è ovunque praticamente eh interversa da tutte le parti perché è in tutti i saponi quindi tutti i dentifrici di tutti i saponi ehm ovunque. E se appunto ci sono dei pazienti che sono particolarmente sensibili e quindi a contatto con il sodio laurilsolfato possono sviluppare maggiormente queste afte che sono terribili, sono dolorosissime. Eh esistono comunque in farmacia delle delle sostanze, dei gel piuttosto viscosi che rimangono attaccate alla superficie dei denti e quindi possono eh proteggere diciamo favorire e velocizzare un po' la guarigione delle afte stesse che mediamente comunque durano sui 10-15 giorni. Ok. Allora vediamo cosa scrivono ancora. Allora stanno andando su e giù. Adesso rispondo ad Anna. Allora Anna invece parla di eh scialorrea. Ma già prima c'era mi sembra più su una. Ok. Sì anche Giustina voleva sapere sull'ascialorrea. Sì. Allora eh l'ascialorrea è diciamo l'effetto contrario, la situazione contraria dell'axerostomia cioè è un eccesso di produzione di saliva. Eh può essere una cosa diciamo fisiologica non non necessariamente deve essere patologica. Anzi spesso è una grande protezione, una grande difesa. Eh come si può verificare anche qui in concomitanza con l'assunzione di alcuni farmaci eh in alcune situazioni, alcune patologie. Ora penso per esempio ai pazienti anziani dove hanno maggiore difficoltà nel controllo eh della deglutizione e quindi ecco che possono avere uno scolo di saliva che può provocare delle lesioni, dei tagli e questo è proprio dovuto al fatto che eh è molto più rallentata proprio anche l'attività muscolare ed anche per questo trovo che lo yoga facciale per andando avanti nel tempo possa essere veramente ma lo dico davvero un esercizio fantastico. Eh quindi questo sicuramente. Quindi la scialorrea per quanto riguarda un vedevo un ragazzo giovane ripeto non deve essere intesa necessariamente come una situazione patologica assolutamente ma può anche essere una cosa sì sicuramente fastidiosa ma può anche proteggerlo per esempio può avere un effetto carioprotettivo. Però questo va poi verificato ovviamente con il medico che lo segue. Allora ehm poi ce n'è un'altra che scrive sempre vorrei sapere se meno pausa la saliva oltre a diminuire può essere anche più acida? Sì allora adesso ci arriviamo arriviamo subito anche a questo argomento perché è molto interessante e ehm allora noi dobbiamo considerare che per quanto riguarda l'acidità della saliva nel momento in cui vediamo se c'è la curva di Stefan che forse è quello schema che ti avevo mandato però così ne parliamo subito. Allora consideriamo intanto vado avanti che nel momento in cui mangiamo qualcosa ecco vi ho messo qui questo schema. Perfetto allora questa è la curva di Stefan che forse voi eh un po' tutti conosciamo perché eh inserita nelle pubblicità di una nota ehm marca di gomme da masticare. Eh che cosa serve? Cosa ci fa capire la curva di Stefan? Ci fa capire che voi guardate intanto la linea quella in alto quella verde. Qui vediamo il livello di pH della nostra saliva quindi la nostra saliva in una situazione di normalità dovrebbe avere un pH che si aggira attorno ai 7,4 o 7,5 va bene? Questa sarebbe una saliva ottimale. Come facciamo a vedere eh quanto è il pH della saliva? Ci sono delle cartine che si possono comprare in farmacia eh versate un po' di saliva all'interno di un bicchierino e inzuppate questa cartina è una cartina tornasole che vi dà la eh il grado di acidità della vostra saliva. Eh una bocca diciamo che non ha carie, che non ha infiammazione, una bocca in salute ha mediamente una salivazione che ha un pH intorno appunto a 7,4. Cosa avviene? Se voi guardate se io metto in bocca qualcosa di dolce nel giro di un minuto la mia saliva tende ad abbassarsi e tende a diventare acida, ad andare verso una progressione di acidità. Guardate sempre la linea verde nel giro di mezz'ora, un'ora, torna ai livelli iniziali. Questo è molto importante, vedete gruppo avvio segnato no carie, no infiammazioni, quindi questa è una bocca in salute e quindi intanto abbiamo già capito che se io voglio avere una bocca con una salivazione che abbia un pH buono, ottimale, che non scioglie lo smalto dei denti, devo avere non infiammazione, devo lavarmi bene i denti, devo fare i controlli in modo regolare, non aspettando, come abbiamo detto anche l'altra volta, non aspettando di avere dolore, perché a volte, come per esempio una malattia parodontale, non necessariamente il dolore ci sarà, anzi non arriverà mai. Per quanto riguarda invece l'altra riga, vedete quell'arancione, che cosa sta a indicare? Lì sta a indicare quello che è il pH di una bocca in cui invece ci sono già delle carie attive, c'è già dell'infiammazione e quindi una bocca in cui la saliva è acida, di partenza è acida. Che cosa vedete? Che io metto in bocca qualcosa di dolce e nel giro di un minuto la mia saliva diventa, vedete che qui partiva già acida, quindi aveva un pH intorno a 5,2-5,3 che si chiama livello critico di pH, al di sotto del quale quella che è la demineralizzazione dello smalto è molto progressiva, è molto aggressiva. Quindi metto in bocca qualcosa in un minuto, voi immaginate proprio di mettere in bocca qualcosa, di masticarlo e sapete che tra un minuto, soprattutto se questo alimento è dolce, avrete la saliva molto acida. Se io ho delle carie attive che cosa succede? Lo vedete dalla riga arancione, non torna ai livelli iniziali ma rimane sempre progressivamente un pochino più bassa rispetto al valore iniziale. Questo che cosa ci fa capire? Intanto che abbiamo già capito, Petra guarda se vuoi ritornare, io spero che sia stata appunto chiara questa spiegazione ma a me piace moltissimo, tra l'altro questa spiegazione la faccio anche ai bambini molto piccoli, ovviamente la faccio con dei pupazzetti, con dei batteri disegnati però è un qualcosa che rimane molto impresso. Perché? Perché io vi ho dato già anche un altro indizio, che chi per esempio fa tanti piccoli pasti, che cosa fa? Ha sempre la saliva acidissima. Per esempio pensiamo a un paziente diabetico che deve fare tanti piccoli pasti, ecco quel paziente lì deve essere curato molto di più dal proprio dentista, deve andare dal proprio dentista con maggior frequenza, proprio perché non deve avere infiammazione, deve avere una bocca perfetta. Così appunto chi è abituato a fare dei fuori pasto oppure a non lavarsi subito i denti nell'arco comunque di mezz'ora da quando ha finito di mangiare, ecco deve avere presente queste immagini di questo schemettino, perché secondo me è molto importante. Non pensiamo poi a quelli che sono i nostri bambini, dove appunto lì la problematica è ancora diversa perché lo smalto dei bambini è molto sottile e quindi immaginate una situazione di questo tipo con tanti pasti, tante merendine, succhini eccetera e capite che i denti possono effettivamente cariarsi con grave. La linea rossa se continui a mangiare dolce ogni tot è sempre più bassa? È sempre più bassa. Voi considerate che quando abbiamo una buona salivazione noi abbiamo costantemente dei processi di demineralizzazione, dove lo smalto progressivamente si scioglie, a cui si alternano i processi di remineralizzazione, quindi i sali minerali di cui abbiamo parlato prima contenuti nella saliva e il bicarbonato di sodio contenuto nella saliva vanno subito a tamponare e a aggiustare questo processo di demineralizzazione. Per cui capite bene che una riduzione della saliva in quantità o in qualità può avere un effetto veramente molto, non dico devastante, ma insomma quasi. Voi considerate che ad esempio i pazienti che vanno in radioterapia, radioterapia della regione testa-collo, la prima cosa che partono sono i denti, perché si azzerano, si azzera la produzione di saliva e quindi questi pazienti non riescono a mangiare, non riescono a, appunto non hanno completamente la saliva e nel giro addirittura di due o tre mesi è veramente molto imponente. Quindi questo ci fa capire quanto sia importante la saliva e quanto veramente va considerato un elisir che va coccolato con tutto ciò che possiamo fare. Infatti nella medicina cinese viene chiamato elisir. Sì, sì, giustamente. Allora, c'è Giovanna che chiede, non so se tu conosci l'olpulling, è più una tecnica diciamo usata appunto, lei dice in Ayurveda, anch'io la conosco perché nella medicina cinese comunque la usano e quello è proprio per mantenere, diciamo non è tanto, sì, crei tanta saliva perché devi stare dieci minuti a fare tutti i movimenti, quello sicuramente serve come stimolazione della saliva, viene indicato diciamo per pulire i denti, io non l'ho mai fatto, tendo a pensare più che diciamo le tecniche tradizionali con lo spazzolino, il filo interdentale e i vari strumenti ausiliari possono essere utili, però sicuramente per stimolare la produzione di saliva può essere una tecnica da usare. Allora, qua chiedono come mai quando vedono in tv piatti molto buoni, la salire in bocca, il salire l'odore e quello è il ordinamento psicologico, la teoria psicologica dell'associazione. Esatto, sì, sono stati fatti anche tanti esperimenti con il cane, il campanello, quindi ovviamente la vista, tutti i nostri sensi sono collegati e quindi ogni senso può accendere una serie di eventi a catena che possono portare appunto all'aumento di salivazione, ovviamente noi vediamo un cibo, un alimento, lo colleghiamo con il fatto che potremo mangiarlo, potremo gustarlo e quindi per gustarlo abbiamo bisogno di avere un aumento della produzione di saliva, quindi è un buon segnale perché vuol dire che funziona tutto e tutti i filini che ci uniscono tornano tutti. Allora, una cosa importante, visto che abbiamo capito che appunto la saliva è estremamente importante e ci serve anche per degustare il cibo, ci serve per poterlo deglutire, ci serve per poterlo digerire. Quindi quando viene detta che la prima parte della digestione risiede nella bocca, è vero, è verissimo, proprio perché come abbiamo visto all'interno della saliva ci sono tanti di questi enzimi, cioè tante di queste proteine che consentono di degradare, di distruggere o comunque spezzettare, diciamo così, delle grosse proteine e quindi la prima digestione inizia proprio nel cavo orale. Un esercizietto che volevo farvi fare e che vi faccio vedere, se mi dai lo schema quello degli alimenti, io vi consiglierei di fare una prova. Esatto, perfetto. Allora, tempo fa avevo fatto una diretta sulla mia pagina dove avevo cercato di coinvolgere il più possibile i pazienti o gli amici che mi seguivano e vi consiglio anche a voi di fare questo schema. Perché vi dico questo? Perché noi siamo abituati a non gustare il cibo, a mangiare troppo rapidamente, a masticare poco il cibo e quindi a deglutirlo in pezzettoni grossi. Quindi, che cosa succede questo? Questo rallenta la digestione, perché abbiamo detto prima che buona parte della digestione si verifica all'interno della bocca e soprattutto non ci consente di degustare e di poter valutare al massimo e di poter esaltare al massimo quelli che sono i sapori che andiamo ad assumere. considerate per esempio che un trucco degli alimenti confezionati, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto, è che il sapore massimo voi lo potete apprezzare nei primi due o tre bocconi, scusa, nei primi due o tre cicli masticatori. Dopodiché, se non mandate giù il cibo in modo rapido, anche perché generalmente è piuttosto morbido, che cosa succede? Che comincerà a venire fuori quelli che sono i retrogusti, che di solito sono invece piuttosto amarognoli. Allora, un consiglio che vi do è quello di scrivere proprio su un foglio, prendere un foglio e fare una tabella semplice come questa, in modo tale da vedere quelli che sono i cibi assunti, il numero di bicchieri di acqua che ho bevuto durante il pasto e il numero di cicli masticatori. Che cosa significa? Ciclo masticatorio significa che io metto un alimento, in questo caso io vi ho messo il mio pranzo di oggi. Quindi ho preso bresaola e parmigiano, quanto l'ho masticato? Io l'ho masticato pochissimo e mi sono resa conto, contando, che è troppo poco. Quindi mettete in bocca e cominciate a masticare e guardate, segnatevi per quante volte avete portato i denti a contatto. Quello è un ciclo masticatorio, quindi dal momento in cui metto l'alimento in bocca e comincio a masticare. Quanti cicli masticatori fate? Quante volte battete i denti prima di deglutire? Io troppo poco, perché considerate che il valore, è interessante questo, è interessantissimo. Io lo faccio anche con i bambini, è fantastico e ragazzi noi non mastichiamo, io stessa veramente mi sono... Tocchiamo giù in due bocconi. Tocchiamo giù in due bocconi e quindi questo è il nicidiale perché c'è tutta una serie di implicazioni bellissime, perché veramente l'essere umano è fantastico. Allora, uno abbiamo detto non digeriamo bene, quindi la digestione tende ad allungarsi. Due, non percepiamo il gusto dei cibi se mangiamo troppo velocemente, anche perché il nostro cervello impiega circa 20 secondi per poter apprezzare completamente quelli che sono i sapori e per poter attivare anche, diciamo, lo stop. Quindi, ok, sei sazia, va bene così, basta. Se noi mangiamo troppo velocemente, questa attivazione del campanello stop non ce l'abbiamo. E quindi, infatti, che cosa si è visto? Sono stati fatti degli studi dove le persone che masticano, hanno dei cicli masticatori troppo bassi, cioè inferiori, voi considerate come valore 35-40. Se fossimo proprio bravi, da 35-40 in su, però se voi provate, mettete in bocca qualcosa, uno, due, tre, quattro, non finisce mai. E quindi ci rendiamo conto che noi non siamo veramente abituati a masticare. E ovviamente il fatto di alimentarci anche con cibi molto morbidi non agevola. E io continuo sempre a pensare ai nostri bambini, a cui diamo tante merendine schifose che si masticano in tre secondi, non capiscono neanche, non si attiva quindi il meccanismo di stop. E quindi tutto questo poi comporta che ci alimentiamo male, che non siamo comunque soddisfatti, che tendiamo a non avere sempre lo stimolo della fame, perché non riusciamo ad attivare quel campanello della sazietà. Quindi io vi invito a fare questo piccolo schemettino molto semplice e a riportarvelo sul foglio e a rendervi conto, considerando che il valore buono, diciamo ottimale, è 35-40 cicli masticatori. Quindi io sono assolutamente bocciata sotto la norma. Malissimo. Bisogna migliorare assolutamente. Vediamo se ci sono. Sì, qua chiedono, dicono, scrive Anna, dice che durante il pasto si dovrebbe o non si dovrebbe bere, perché alcune volte anche lì qualcuno dice meglio non bere, però se hai poca saliva devi aiutare il cibo a… Ma il bere in realtà serve proprio per aiutarti a digerire meglio, anzi veramente di solito è consigliato bere, anche perché ti, diciamo, migliora la sazietà. Cioè, se tu riesci a bere e non ti attappi tutto di cibo, ovviamente riesci a diluire di più il cibo, riesci ad avere maggiormente una, appunto, una sensazione di sazietà prima e quindi, per quello che ne so io, normalmente bisognerebbe bere, anzi bere il più possibile. Anche io, comunque, come Anna, spesso sento e leggo di non bere durante i pasti. Allora, poi c'è… Sì, poi sai, le teorie sono immense e infinite, quindi… Allora, ma Maria dice, non so se sono in te, ma durante il pasto succede che mi mordo all'interno della bocca. Questo non devi parlare con il tuo dentista perché può darsi che tu abbia dei denti posizionati in modo non corretto, che abbia magari delle ricostruzioni che ti creano dei precontatti, quindi dei contatti sbagliati sui denti che ti fanno deviare la mandibola nel momento in cui mastichi e quindi questo può succedere. Casomai, fate attenzione a non instaurare quel vizio che porta la gente a masticarsi la guancia, perché questi piccoli tagli, questi calli che si formano all'interno della guancia, poi più facilmente possono interferire durante la masticazione e farvi rimordere, quindi poi dopo diventa molto, appunto, fastidioso. Poi c'è Francesca che chiede se il pH della saliva può influire sulla formazione dei calcoli alle ghiandole salivari. Allora, quello sì, perché una salivazione molto acida e, diciamo, molto viscosa e poco fluida può sicuramente dare origine alla formazione di calcoli, quindi anche in quel caso il fatto veramente di bere, di mangiare lentamente, guardate che è veramente una cosa importante, perché il mangiare lentamente fa lavorare correttamente le ghiandole salivari e la muscolatura. I calcoli salivari si formano soprattutto quando appunto la saliva è molto densa e quindi tende ad intasarsi all'interno di questi condotti che sono molto sottili, quindi quello sicuramente. Adesso qua chiedono pulizia della lingua che a breve vedremo, visto che abbiamo anche... Sì, ne avevamo un po' parlato anche l'altra volta, una cosa che consiglio sempre, anche appunto a proposito della lingua e dell'alitosi di cui abbiamo velocemente parlato prima, la lingua, se vuoi far vedere la foto, è una... soprattutto alcuni tipi di lingue, anche qui se voi vi guardate la vostra lingua davanti allo specchio e vi invito a farlo, quindi tirare fuori bene bene la lingua e vedere se ha un aspetto piuttosto uniforme la sua superficie oppure se ad esempio ci sono dei solchi. Ci sono tantissimi pazienti che hanno dei solchi molto profondi e all'interno di questi solchi o tra le papille gustative che sono tutti quei filini e quei bottoncini che abbiamo posizionati sulla lingua e che servono appunto per consentirci di degustare e di apprezzare gli alimenti, ecco che lì sotto si annidano i batteri. Quindi come forse abbiamo detto anche l'altra volta durante la puntata dedicata allo spazzolamento bisogna proprio pulire bene la lingua partendo dalla parte più posteriore possibile e cercare delicatamente di pulire e di asportare appunto questa patina che aderisce alla superficie della lingua. Anche e soprattutto nel momento in cui vediamo che la saliva appunto tende a ridursi. E per fare ciò si può fare o con lo spazzolino oppure esistono delle... Dei grattalingua, sì che sono come delle piccole forcelle con le quali si parte dalla parte posteriore e si viene avanti. Esatto. Io Petra se posso dire riguardo allo spazzolamento perché a parte la puntata precedente siamo state molto esaustive però per chi avesse bisogno di altre informazioni io posso anche dire che sulla pagina appunto sulla mia pagina ci sono tantissime dirette dove appunto vengono affrontate ogni settimana viene affrontato un argomento in modo tale da rispondere a quelle che sono le domande che con maggior frequenza vengono appunto fatte dai pazienti. Quindi è un materiale gratuito a disposizione di tutti che può servire appunto per togliere un po' di dubbi, di curiosità oppure per spingervi ad essere informati ed andare dal vostro dentista. Esatto, infatti sopra nella descrizione, sopra il video o sotto non mi ricordo mai, dipende se si guarda dal computer o dal telefono, c'è il contatto di Francesca della sua pagina dello studio dentistico Francesca Romana Nardelli e lì vi suggerisco appunto come ha già detto di vedervi qualche sua diretta proprio che le fa ogni settimana e sono anche quelle molto più dettagliate rispetto a questa che volevamo appunto dare un'infarinatura e trattare degli argomenti in un modo un po' più generico. Allora, vediamo ancora se c'è qualche domanda. Io riesco a pulire solo metà della lingua perché non mi viene, perché mi viene il senso di vomito. Ecco, in questo caso... ...è un senso bianca la lingua. Ti capisco perché anche a me succede. Quindi in questo caso compra il grattalingua che appunto ti dicevo è una specie di forcella con un manico, con delle setoline con le quali puoi partire dalla parte più posteriore delle lingue, delicatamente pulirla fino alla punta e quindi questo si è... oppure se non avete appunto il riflesso faringeo, quindi il riflesso dei conati... Aspetta, puoi ripetere perché ci si è bloccato e non sentivamo e non vedevamo nulla. Ah ok, scusate. Allora dicevo, siamo rimasti del fastidio di pulire. Quando avete questo riflesso del vomito molto pronunciato come del resto ho anch'io, potete usare queste forcelle grattalingua che sono proprio come delle forcelline con un manico, con delle setole che ti consentono di pulire dalla parte posteriore fino alla punta della lingua, senza diciamo ovviando a quel problema dell'orto di vomito. Se questo problema non ce l'avete potete invece mettere lo spazzolino orizzontale rispetto alla lingua e appunto piano piano spazzolare la superficie della lingua, sempre delicatamente perché sennò si può infiammare la lingua, è delicata. Ok, bene, non vedo altre domande, chiedo... fanno tanti complimenti che sei stata molto chiara e... Ah bene, mi fa piacere perché guarda questo tema della saliva secondo me è fondamentale e non ci pensiamo, non ci pensiamo, quindi ci alimentiamo male, rischiamo di avere tutta una serie di problematiche anche appunto a carico dei denti, invece la saliva è veramente un elisir, però bisogna capire quelle che sono le sue caratteristiche e le sue peculiarità, quindi ti ringrazio molto Petra di avermi dato questa possibilità di parlare appunto insieme a voi, spero che sia stata utile. Assolutamente sì, perché come dicevo all'inizio sono argomenti, anche l'altra volta, argomenti che magari sembrano così banali, invece scopriamo che non sappiamo lavarci i denti nel modo corretto, non abbiamo idea di quanti denti abbiamo, non sappiamo appunto la funzione della saliva è una cosa che comunque sappiamo di avere in bocca, di produrla, ma sostanzialmente quali sono esattamente le funzioni, quindi assolutamente sì che è stato interessantissimo e utile. Allora finisco di rispondere a Marinella, la lingua la puoi pulire anche con un pochino di dentifricio, pochissimo, ne basta veramente pochissimo, giusto per agevolare l'asportazione della placca, quindi quello sì, un goccetto lo puoi usare, però per esempio se usi la forcella, scusami, la forcellina appunto grattalingua, ecco che in quel caso lì non non è necessario. Ok, va bene, credo che abbiamo parlato in modo molto ampio di questo argomento, quindi bene, sono contenta se abbiamo dato un po' di input, di curiosità, di informazioni che appunto servono per prendersi cura meglio non solo del viso ma anche della bocca, perché è veramente importantissimo. Esatto, quindi chi pratica lo yoga facciale si chiede come mai, cioè è bene o male produrre tanta saliva, adesso lo sappiamo che è un buon segno. No, anzi dobbiamo iniziare a preoccuparci quando ne produciamo poca, perché abbiamo visto appunto l'importanza che ha sia per i denti, per la digestione e per la nostra salute. Esatto, anzi credo, credo sempre di più che lo yoga facciale sia veramente da indicare, quasi come una medicina, no? Cioè tutti lo dovrebbero fare, perché ripeto, andando avanti nel tempo c'è tutta una serie di situazioni che ci portano proprio ad avere una riduzione della salivazione, quindi immaginare di essere già in grado di stimolare le proprie ghiandole è fantastico, senza dover ricorrere necessariamente ai farmaci. Meno farmaci prendiamo e meglio è, quindi questo sicuramente. Prima perché alcuni farmaci ci riducono la produzione. Tantissimi, tantissimi, veramente tantissimi. L'ultima domanda vedo che potrebbe essere interessante, le gomme da masticare. Allora, le gomme da masticare possono, ovviamente se non contengono zuccheri, zuccheri cariogeni, possono sicuramente dare uno stimolo nell'aumentare un pochino la produzione di salivazione. Certamente non possiamo mangiare in continuazione gomme, anche perché poi dopo si può creare un ipertono dei muscoli masseteri, quindi i grandi masticatori di chewing gum hanno dei masseteri grossi così e tendono poi a tenerli in tensione, quindi dopo andiamo incontro, bruxismo, serramento, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la gomma da masticare me la terrei proprio in un angolino, in casa di emergenza, però tenderei più a stimolare in un modo più naturale, diciamo. Ok, Francesca, io direi che possiamo terminare qua questa diretta. Grazie mille di nuovo. Grazie, come sempre, sei stata fantastica, è molto chiara, è interessante. E niente, poi vedremo se ci sarà ancora qualche argomento. Ti rivoliamo qua sulla pagina più che volentieri. Intanto a tenere la sera, grazie mille. Un bacio, grazie mille a tutti. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ok, quindi anche oggi un argomento super interessante e sicuramente molto utile per tutti, perché immagino che la maggior parte di voi non conoscesse tutte queste nozioni di quanta saliva produciamo, a cosa serve e così via. Quindi spero di aver contribuito, insomma, sia io con l'apporto di Francesca a darvi nuove nozioni e appunto a farvi scoprire nuovi argomenti e l'utilità appunto della saliva. Allora, domani ci vediamo e domani vi insegno l'ultimo esercizio di questa serie di puntate, perché poi ovviamente non posso dirvi tutti gli esercizi perché esiste il corso di yoga facciale, ma comunque domani voglio insegnarvi un esercizio che mi avete chiesto in tanti, un esercizio per il collo, per tonificare il collo e questa zona d'almento fino al decoltè. Ok? Quindi per chi è interessato ci vediamo domani alle 5 e mezza, sempre qua sulla pagina Viso in Forma. Io ti ringrazio per aver seguito questa diretta, sia che la guardi in diretta oppure in differita, e a domani. Ciao, buona serata!